Conoscevate la ludoteca del Registro.it? Io prima non lo so cos'è, ma quando ho provato ho capito che è molto bello, che ti aiuta a crescere. Insomma, questa ludoteca del Registro.it è divertente? Secondo me sì, perché internet è importante. Io mi sono divertito tanto perché abbiamo fatto tanti giochi. Avete imparato delle cose nuove oggi? In questa giornata abbiamo imparato tante cose negli usi di internet, che si possono trovare anche tanti virus, e quindi è meglio, se si deve navigare su siti che non conosci o anche dare dei dati a qualcuno che non sai, è meglio sempre essere visti da un adulto. Voi sapete cos'è il punto.it? Me lo sapete spiegare? Certamente! I siti col punto.it sono i siti italiani. Infatti, it sta per la marca Italia. Grazie a tutti! Grazie a tutti! È importante nel giorno d'oggi che i bambini possano crescere, anzi già nascono col digitale in mano, perché noi sappiamo che i bambini, ancora prima di essere nati, l'ecografia è la prima fotografia digitale del bambino o della bambina. Per mia figlia vorrei che crescesse in un mondo in cui il digitale appunto rappresenta anche un'opportunità per esprimere la propria creatività, di cui però deve essere consapevole, deve essere consapevole sull'utilizzo, sulla potenzialità, sulle opportunità, ma anche sui rischi, perché soltanto con la consapevolezza, infatti la conoscenza, poi si può vivere il territorio del digitale in maniera, diciamo, umana e sociale. Oggi è importantissimo educare digitalmente i ragazzi, anche gli insegnanti, anche i genitori, cioè è tutta la filiera, se vogliamo, che va educata. Oggi competenze digitali, educazione digitale vanno di pari passo per dare ai ragazzi quegli strumenti che gli serviranno poi nel momento in cui andranno a trovare lavoro, andranno a mettersi nel mondo del lavoro, avere quelle competenze che gli saranno utili per lavorare meglio, per essere più produttivi e per sapersi integrare in un mondo che è sempre più globalizzato, dove la rete oggi veramente è il primo strumento di accesso alle informazioni e di accesso nella socialità tra le persone.